Ciao a tutti, oggi è mercoledì 6 giugno 2018, mi trovo qui sulla terrazza del bar Marini. Sono qui con il mio amico il professor Manzini, Giovanni Luigi Manzini, che ci siamo fermati per questo fatto. Vedete? Questa qui è la porta d'ingresso del bar Marini e la porta è aperta. Aperta come? Aperta sfondata, aspetta un attimo, perché vedete il chiavistello, questo, vedete, è fuori. Vuol dire che è stata forzata. Adesso chiameremo i vigili, adesso noi siamo all'interno, devi venire fuori perché è proprietà privata, che non si può... Devo verificare se dietro al bancone ci fosse qualcuno. Beh, devono verificare i vigili. Va bene, ma era per un primo intervento. Guarda, allora, vedete? Vedete qua? Questo è il vetro che ha avuto un colpo. Probabilmente questo è un vetro antisfondamento. Avranno tentato di abbatterlo. E' buon così. Va bene. Ok. Qui la situazione è abbastanza preoccupante perché un bene comunale, perché questo è comunale, è lasciato alla merce di chiunque abbia voglia di fare qualcosa, abbia voglia di usarlo. Allora, come abbiamo visto, qualsiasi corpo nel senso di fabbricato comunale, che è tralasciato, viene preso per uso, abitazione, a dormire e robe varie. Ora è la stessa questione, è abbandonata a tira degrado. Allora, guardate qui anche questi poveri fiori che non hanno queste piante. Anche questo fius mi fa pena perché bisognerebbe bagnarlo. Adesso, se ci fosse un po' d'acqua... Sì, ma va bene. Va bene, dai, andiamo. Non c'è ancora, per esempio, le marmellate per la colazione. E che magari che l'ha dimenticata qualcuno che viene a fare colazione, perché mi sembra strano che chi è andato via, chi è andato via, che abbia lasciato del materiale o altro. Va bene, dai. Ok, veniamo un attimino fuori. Un secondo che vogliono controllare. Qui, se vuoi, cambiamo anche da del gin, che però mi sembra... Che magari è solo pipì. Attenzione, potrebbe anche essere pipì. Non bere niente, non toccare niente, non toccare niente... Qui c'è un pacco d'uno con qualche... Eh, porto la casa. ...con qualche dolce. Eh, va bene. Ok, dai, andiamo. È veramente una cosa... Eh, purtroppo è così. Se, allora, se manca il controllo, tutti quanti ne abusano. Sì, diventa... Va bene? Degrado, attira degrado. Adesso, telefona, telefona alla polizia municipale e la fai venire qua. Sì, telefona davanti alla telecamera. Va bene. Chiamiamo subito i vigili urbani. Polizia municipale. Sì, polizia. I vigili urbani è cosa vecchia. Ecco qua, cerchiamo il numero che ce l'ho in memoria. Pronto intervento. Eccolo qua. Ok, chiama. Metto anche il viva voce. E i bar marini, eh? Sì. Non rispondono. Non rispondono. Non rispondono. Ancora. Buongiorno, sono il signor Manzini. Senta, mi trovo qui davanti al bar marini e vi devo segnalare che la porta è stata sfondata ed è aperta. Si può entrare e il... Scusi, non ho capito. Che porta? La porta d'ingresso, la porta d'ingresso del bar marini. Ah, ok. E si può entrare tranquillamente dentro il locale. Ok, va bene. Vi faccio vedere, d'accordo, grazie. Arrivederci, buongiorno. Allora, bene. Abbiamo fatto il nostro lavoro. Aspettiamo i vigili. Abbiamo fatto il nostro lavoro. Ok? Chiudi e riprendi quando arrivano i vigili. Va bene.